Continua a tenere banco la situazione dell'ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Lunedì pomeriggio si è tenuto l'incontro tra la direzione del nosocomio e le organizzazioni sindacali. L'attenzione si è concentrata sull'organico e sui servizi, mentre nello specifico, durante la riunione in cui era presente anche il sindaco di Mussomeli Catania, come recita il comunicato delle associazioni sindacali, sono state illustrate le novità relative al reclutamento dei medici ex Unione Europea con l'introduzione in servizio in tempi rapidi presso le diverse unità operative dell'ospedale di Mussomeli, con buone possibilità che rimangano in servizio oltre alla fine di quest'anno. La problematica relativa alla carenza di anestesisti verrà invece fronteggiata con il reclutamento di anestesiste gettone, mentre per quanto riguarda il servizio di endoscopia digestiva potrebbe essere garantito con almeno due sedute a settimana dalla responsabile del servizio endoscopia di San Cataldo. Poi, a margine dell'incontro, continua il testo delle associazioni, si è analizzata la situazione del personale ausiliario evidenziando come altre ASP, ad esempio l'ASP di Messina, abbiano deliberato la riqualificazione del proprio personale con oneri a totale carico dell'ente. Infine, conclude la nota delle associazioni sindacali, si è ricordato la necessità di restituire alla collettività i locali che ospitavano il centro di igiene mentale di via Palermo, che necessitano di parecchi lavori strutturali ma che una volta risanati potrebbero essere utilizzati per ospitare servizi dell'ASP, quale per esempio un centro di urno per malati di Alzheimer.